Sto leggendo il Corriere della Sera, scritto appena ieri del 13 gennaio 2007, dove dice il titolo è Piano per il Sud in arrivo 100 miliardi. I fondi spalmati in 7 anni stanziati dall'Unione Europea, prodico e coesi nella forma e così via. L'Agenzia per i fondi europei è fine. Non fa neanche più tanto ridere, insomma, non so per dire. Siamo a livello della barzelletta del fantasma formaggino, io ce la posso anche raccontare, ma non credo che faccia tanto ridere e sa anche come finisce. Non lo so, quando non sanno cosa fare tirano fuori i fondi UE di 100 miliardi e erano spalmati in 7 anni, era il 2007, se il calendario non è stato riformato anche questo, siamo nel 2015, quindi i 7 anni sono passati, avete visto i 100 miliardi o non li avete visti e allora significa che vi stanno pigliando per il naso, oppure se si sono visti significa che non funziona.